Ebbene, rieccoci all'orto Antelechia. Ecco che vediamo che, nonostante il gran caldo, le foglie del mais sono molto più belle degli altri giorni. Almeno io le percepisco più vivide, più irrigue, infatti, ipotizzo, che stanno traendo beneficio delle annaffiatine che gli ho dato sotto questo principio di pacciamatura simbolica. Allora, eccoci qua arrivati nell'aiguola in cui c'era il grano, che è stato raccolto, sono state messe da parte le spighe, e la paglia è stata messa appunto qui a pacciamatura. E' stata fatta la minima lavorazione, previo leggero inumidimento del suolo. E la terra è venuta così, è venuta spettacolare. Ho finito di lavorarla ieri sera, qui sotto si può vedere che è ancora un po' umida. Sì, 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 è proprio questo che devo sentire, è proprio questo che voglio sentire quando metto la mano in un suolo che incomincia a rispondere alla rigenerazione. Sopra incomincia a seccarsi perché fa caldo, e ho cominciato a fare queste filine che scandiscono trasversalmente la aiguola con dei porri, porri seminati nel vivaio in Terechia, partendo da semi buoni comprati con l'idea, semi buoni comprati non manipolati con l'idea di riprodurli. Ecco una prospettiva di questa aiguola. Ecco un dettaglio da un'altra angolazione su una di queste filine di porro, che è in realtà un miscuglio di più varietà. Poi successivamente arriveremo ai trapianti forse anche di un altro miscuglio con altre varietà che abbiamo seminato successivamente. Ma questi sono proprio i primi porri che seminiamo in quest'anno. Come si può vedere ci sono come i, come si chiamano, i pioli di una scala, di una scala di quelle da appoggiare all'albero. Trick, trick, ci sono queste lineette che scandiscono lo spazio. Una in corrispondenza del tutore ad arco, quindi qui ne abbiamo un'altra, sempre in corrispondenza dell'arco. Poi ne ho fatta una in mezzo per dividere lo spazio in due e ancora nelle altre due metà. In questo modo c'è arco, tre file, arco, tre file e si va avanti così. E ci sono circa cinque porri in ognuna di queste file. No, no circa, ci sono esattamente cinque porri in ognuna di queste file. Questi sono i trapianti che ho iniziato ieri sera e ho finito stamattina. E adesso, eccomi qua, che sto improntando la piantumazione dei sedani rapa. Vediamo, vediamolo nel dettaglio. Allora, qua abbiamo le vaschette da 4 con i sedani rapa del miscuglio di tutte le varietà che ho potuto trovare da sgaravatti. E qua abbiamo invece le vaschette da 6 con il miscuglio di tutte le varietà che ho potuto trovare sul sito di Sativa Reinau. Sedano rapa di sativa, sedano rapa di sgaravatti. Visti così possono sembrare un po' sfiappi, un po' sguegni. Ma io cosa faccio? Incomincio a rimuovere le foglie marcine e gialline dal basso e, analizzando la forma composta della foglia, vado a rimuovere la parte apicale e gli lascio praticamente le due pagine basali. Per cui faccio lo stesso qua, per cui faccio lo stesso qui e faccio lo stesso qua. E poi, trucco, tiro fuori la piantina che già, anche soltanto dopo questo simbolico intervento, emana un rinnovamento. La radice è ancora bianca, vuol dire che non sta avvizzendo, è un buon segno. Il panetto è ben strutturato, volendo potrei fargli un po' di snuk snuk, ma giusto per dare un input benefico alla radice affinché si prepari a espandersi in una forma diversa da quella squadrata da cui proviene. Detto questo, queste piantine, che gestisco in entrambi i casi con lo stesso pattern comportamentale, arrivo e le posiziono. Se qui c'è un porro e qui c'è un porro, io qui in mezzo ci metto esattamente il sedano rapa e quindi cinque porri, cinque sedani rapa. Questa è la fila di sedano rapa di sgaravatti, qua lascio il posto per sativa, qua vado con sgaravatti e poi sativa, sgaravatti, sativa e questa praticamente è l'alternanza. Mi infiarocito questa mosca. Poi cosa succede? Succede che salto di qua dalla iguola, salto di qua, prendo la mia palettina, prendo la mia palettina, ho il sedano rapa posizionato, lo sposto un attimo, con la palettina sposto la terra un po' sul porro di qua, un po' sul porro di là, faccio questa sorta di bucanine, mi assicuro che sul fondo sia bella sciolta, posiziono la piantina, magari qui è ancora un po' in superficie, quindi scavo un po' di più, posiziono la piantina e semplicemente gli riporto un po' di terra a ridosso del colletto, cercando di far sì che la foglia interna non venga sepolta. Per cui diciamo questo, questa foglia qui, è il punto che non vorrei soffocare con la terra, però fino alla base di quella foglia va sempre bene. Quindi, rifacciamo simbolicamente un'altra volta. Praticamente la stessa procedura è quella che ho seguito per mettere giù i porri. e quindi è come se il porro fosse l'uno, il sedono rappa fosse lo zero, in questo metaforico codice binario di alternanza di essenze consociate. Poi cosa succede? Che entra in gioco l'acqua, qui sta un po' esagerando, sta facendo proprio un allagamento, ma perché, insomma, mi sono messo a fare il video e mi è scappato un attimo di mano. L'ideale sarebbe non dargliene così tanta, almeno credo, preferisco dargliene un po' di meno, giusto quel po' per creare una guida e un piccolo serbatoio nel suolo. Che rimanga una sorta di canalino bagnato, con poi delle creste di suolo asciutto che dividono i canalini bagnati. Così, è quello che adesso cercherò di realizzare. Torno all'ombra, soffio la mosca che mi mangia la carne. Niente, questo è un po' il lavoro che sto improntando. L'idea è quindi, in questa iguola, di poter, ci piace pensare, ci piace desiderare, raccogliere due essenze. Raccogliere i semi dei porri, raccogliere i semi dei sedani rapa. Sedani rapa, che sono due miscugli che vengono da provenienti diverse, tutte sementi non manipolate e riproducibili. Questo cosa significa? Che i porri e i sedani rapa affronteranno l'estate per crescere, l'autunno per produrre. Potremmo provare di raccogliere per mangiare le piante migliori e vedere se dalla radice ripartiranno le piante per una fioritura primaverile. Questo poi sarà un tema che potremo riprendere man mano che si avvicinerà il momento. Ci teniamo a condividere con te questo questo attimo, questo attimo di rinascita, questo attimo di rigenerazione, questo attimo di cambio d'abito, questo attimo di cambiamento nella fiducia e nella gloriosità. Tanti bacetti, ti voglio bene. Grazie. Grazie.